Una società civile se combatte la cultura dello scarto, l'ha detto Papa Francesco ricevendo la congregazione della dottrina della fede in assemblea plenaria. Papa Francesco ha parlato del valore intangibile della vita umana, della cura dei malati nelle fasi critiche terminali e della necessità di riscrivere la grammatica del farsi carico, del prendersi cura della persona sofferente. Una scheda nel nostro servizio di apertura. La cultura dominante impone di considerare vite indegne, le vite che non producono efficienza e utilità, ma una società può essere considerata civile solo se riconosce il valore intangibile della vita umana. Lo ha ricordato Papa Francesco ricevendo i partecipanti alla plenaria della congregazione per la dottrina della fede. Il contesto socio-culturale attuale sta progressivamente erodendo la consapevolezza riguardo a ciò che rende preziosa la vita umana, ha spiegato. Essa sempre più spesso viene valutata in ragione della sua efficienza e utilità, al punto da considerare vite scartate o vite indegne quelle che non rispondono a questo criterio. In questa situazione di perdita degli autentici valori vengono meno anche i doveri inderogabili della solidarietà e della fraternità umana. In realtà, secondo Bergoglio, una società merita la qualifica di civile se sviluppa gli anticorpi contro la cultura dello scarto, se riconosce il valore intangibile della vita umana, se la solidarietà effettivamente praticata e salvaguardata come fondamento della convivenza. Attorno al malato occorre creare una vera e propria piattaforma umana di relazione, ha aggiunto, che mentre favoriscono la cura medica aprano alla speranza, specialmente in quelle situazioni limite in cui il male fisico si accompagna allo sconforto emotivo e all'angoscia spirituale. La vita umana, a motivo della sua destinazione eterna, conserva tutto il suo valore e tutta la sua dignità in qualsiasi condizione, anche di precarietà e fragilità. E come tale, è sempre degna della massima considerazione, ha aggiunto il pontefice, che poi ha parlato di hospice. Auspico che tali centri continuino ad essere luoghi nei quali si pratichi con impegno la terapia della dignità, alimentando così l'amore e il rispetto per la vita.